Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video se ci siete sui pollici Siamo con Tirlos, Esmerald, Dolorz e oggi giocheremo in parco giochi e faremo nascondino Ma prima di droppare vi ricordo ragazzi di andare nel negozio fate supporto a un creatore Scrivete Ernesto Fiammata così la Epic mi darà 2 dollari in più al mese e io potrò pagarmi gli alimenti Comunque c'è la skin che c'era nel negozio quella con la zucca è pichissima però raga minchia non puoi spendere 25 euro Allora se la compri metti il codice Ernesto Fiammata così mi supporti ok? No non la compro proprio Ma sei un mio fan? Sì ma non spendo soldi Ok se sei un vero fan se sei un vero Blazer devi mettere il mio nome ti prego mettilo Dani ti scoggiuro eh ti ho bisogno di mangiare Mi danno 2 dollari Ragazzi Non ci sono le due navi Eren Ah sono qui Sì Ma parca puttana ma le cercavo prima e ma Ma che cazzo ci fanno qua volanti? Ma che sono queste cose raga? È per giocare fare le ship wars queste robe qua Allora la tana è questa Ok? Ok Quindi per venire a fare tana si viene qui Non dovete usare armi rampini scudi niente Rimanete con un HP Ora io conterò fino a 30 Vi nascondete E poi vengono centrarvi Possiamo buildare per salire fin qua? Dobbiamo usare la rampa che hai fatto? No ho fatto una rampa per salire Ok Ho le scale dell'edificio E ovviamente non nascondetevi nell'edificio Se no non vale troppo semplice Andate al mio via Ok? Ok Allora ragazzi devo cambiare team Se no vedo i loro nomi Comunque lasciate un like al video E commentate dicendomi se volete qualche minigioco Sfruttando quelle robe lassù Perché sono molto fiche Ora ragazzi In teoria non vedrò più i vostri nomi Quindi posso ripartire Siete pronti? Sì signor capitano E 3, 2, 1 via Vai Go, go, go Power Rangers 3 4 24 25 26 26 28 30 41 Ci siamo Siete pronti? Mi ha invitato Eren Sì Lo so E infatti ho fatto anche fatica A tenere il conto realmente Allora vi sto cercando Dove siete? Allora vediamo se avete fatto le carogne Ma E siete qua Ma raga uno si è nascosto dove ci sono anch'io Ah Lolz Se vi trovo vi tiro un'ammazzata tale Che vi distruggo Anche le chiappe Nice Fai me per primo Lo so che ti piacerebbe Guarda in realtà siamo usciti dal gioco Cerco per 3 ore Ah ma raga dove siete? Ah ma noi stiamo giocando a 1 Ah Guarda il lato positivo In 3 ore puoi mettere un sacco di midroll Raga ma Probabilmente Potrei non trovarvi mai nella mia vita Io lo so Datemi un indizio Please Sono in giro per la mappa P-RS è quasi al centro della mappa Ti dico solo Eren Che quando hai detto Secondo me siete qui dentro Hai aperto la porta di un edificio E io ti ho visto Va da un altro edificio Secondo me Uno di voi È qui sotto Eccolo Ehi Ehi Ma è colpo di M Eccolo Eccolo Sta scappando Non c'era i pomodori da sopra Ecco chi faceva casino Ma Smeraldo Smeraldo Dove sei andato? Perché io devo difendere la panna in contemporanea È vero Anche quello Raga sento tantissimo D'Lords che corre Ma che stai dicendo? Sono vero Dani è fermissimo No Bastardo Da dove? No E vabbè l'ho ucciso Però era in Tana Era in Tana E mi si è salvato diciamo Ah Da andare Quindi? Guardalo Ma aspetta che rispono Ma scusa D'Lords Ma ti sembra? Ma sei una puttana Sei una puttana Default dance Tiè Vabbè ragazzi Ho perso tantissimo Sei nell'altro team? Sì sì sono nell'altro team Ok Allora Quando ci dà il via Noi andiamo a nasconderci Ok 3 2 1 Via 1 2 Allora Dove ci possiamo nascondere? Perché D'Lords mi segue? D'Lords vuoi venire con me? Sì Sì Emerald Ma perché non fa gli suoni la mia emoticon? Volevo trollarlo e non fa i suoni Allora Secondo me è un buon spot per nascondersi potrebbe essere questo qui Vicino Ciao No Vi ho già trovato Cazzo Fermatelo Fermatelo No Vi ho già trovato Non pensavo se potesse uscire dalla finestra Cosa vuol dire? Cazzo Eh beh da dove cavolo eri scusa Che cazzo Ah porca puttana È girato adesso È girato adesso e è entrato da sinistra lui Posso riuscire a you in car mid l'Arz o no? Dani dai vini in tana Minchia è È il campanile L'avete se hai cacciato D'Lords? Mi ricordo quale sia Ah cavoli Potrebbe essere un problema Tier dov'è? Actually ricordandomelo come un ca Puttana Ah è arrivato anche lui in tana Tier 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 è durato poco Come sempre Ora ci cercherà Dani Oh yes Perché avete il link ma? Ok Ora che abbiamo dimostrato come spendiamo i nostri soldi No No dai Non l'ho fatto a posto C'era Dani davanti a me ed è morto Vabbè Tier non fa niente Non me la sono presa Actually servendo rancore come un capo Allora raga Però siete pronti? Siamo pronti Signor D'Lords Ok 3 2 1 Via Vola Scappiamo come un capo 1 2 3 Fammi entrare Fammi entrare Ma stiamo qua Ma scusa Senti No 22 23 23 24 25 6 27 8 29 30 Bambini Sì Alessia Ma non c'è un grande fratello Kids Tier Non ancora È piccolo fratello in quel caso Infatti non spoilerare i piani decennali di Medioset Sto vedendo se Bricconcelli si sono nascosti qui vicino Vabbè ho detto che non si può Vicino alla Tara Nello stesso edificio avete detto Eh sì Ah Lo stesso edificio Tier Tu non capisci mai un cazzo Davvero Tier Perché l'abbiamo invitato Scusate raga Mi sento molto Tano È la componente simpatica Quella che non capisce nulla Ah Mia ira si scatenerà su di te Qua c'è una festa praticamente Yoink Ciao Dani Oh oh lol Tana No Oh Che coglione È arrivato Yoink Yoink Ah 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 Come ha fatto a ucciderlo Da dove sei arrivato? Ero qui di lato Dove scappi? Era ancora qui vicino Sì ma Eme con il tuo piccone luminoso non aiuti Ma io ti ho visto andare verso dove sono L'ho visto L'ho visto Ho visto gli spari Eh Tier Loser Guarda lì Fucking loser Loser Vieni a prenderci L'ho peccato Eme Stai in silenzio così non potete capire le scappi Eme mi sa che non verrà qui Ah E allora dobbiamo andare via Ma quando sta zitto fa paura Ragazzi Sì Sono sceso Sono sceso Dolors Stai andando per la tana? Ragazzi C'è Eme che balla in mezzo a una strada Ma aggiungiamo una regola spicy Cioè che chi muore Chi muore diventa un altro cercatore Uh tipo zombie Volete sapere cosa stavo facendo in realtà? Le seghe No mi stavo facendo la t-post davanti all'ingresso della tana così voi non potevate passare Però Ok No 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 Eren intorno da te allora Ho cambiato squadra Cos'hai detto? E adesso mi scopri alza E torno da te Io torno da te Perché torni? Eh perché se c'è anche Tier Dani? Ciao Aspetta Aia Shit Shit Coprimi Coprimi No è qui È qui È qui Cazzo Coprimi Eme Guidami Guidami Eme guidami Corri 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 Vado nel palazzo Ma è nel cazzo di palazzo Vado Prendo Eme Prendo Emeral Non riesco a fare il salto Non posso iniziabilitare un casino Non riesco a saltare Sono un equai tantissimo Ok lo supero Ti si salta puttana L'ho superato L'ho superato L'ho superato Non so chi sia Ma l'ho superato Dai 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 Eme sta arrivando Eme aiutami Eme 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 Stai arrivando sotto la La cosa No C'è Delors Mi aiuto Ottima tattica Mi aiuto Torni Gli 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 Guarda che si salta Le indicazioni Con i graffiti Geniale Con i graffiti Ragazzi Tu ho dei passi potentissime Le mie spalle Cazzo L'ho superato L'ho superato Volando Si 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 Cazzo Si Si Yes 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 Oh mio dio Quanto l'ho schillata Eren No Eme Eme si è fattuto Dali sta arrivando da sotto Stai arrivando da sotto Intercetto No Oddio Eme 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 Devi capire che io ho tirato una picconata E Eme è saltato sopra una picconata Io ad un certo punto nella visuale ho visto un fendente che mi ha graffiato la schiena Non so come hai fatto a non prendermi Non lo so Eren Eri troppo distante Ok dai facci vedere la distruzione della tua fisarmonica Vai Wow che figo Mentre si distrugge la fisarmonica Io vi invito a lasciare un like Se volete nei commenti Consigliateci Altri minigame da fare O alcune modifiche Se volete Vedere questo minigame Portato in maniera diversa Ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Bella Ciao a tutti